se penso al senso della poesia penso al senso della ricerca di una ricerca inesausta errare è un modo per cercare il proprio posto nel mondo questa è la mia casa il posto dove ritorno seguendo le briciole che ho disseminato vienimi a trovare la mia porta è sempre aperta qui potrai scoprire cos'è la poesia errante e come si sviluppa nel tempo, nello spazio e nelle sue forme clandestine e ufficiali potrai incontrare il buffo fenomeno della pareidolia attraverso il progetto fotografico Chirurgia Visiva navigando tra le varie sezioni potrai anche curiosare tra le pubblicazioni e la vetrina con i suoi unici lavori d'arte c'è da incuriosire anche i più curiosi amanti dell'arte e della poesia sperimentale questo è il posto giusto per un certo tipo di gusto grazie a tutti